Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Nain Saila Review. Questi tappeti sono annodati a mano nelle botteghe della città di Nain nella Persia centrale, vicino a Isfahan. Sono solitamente molto chiari con colore di fondo bianco panna o blu scuro, e un grande medaglione centrale. Alta densità di nodi e materiali di prima scelta fanno di questi tappeti un articolo di ottima qualità. Sono prodotti nella maggior parte dei formati, e sono tra i tappeti più belli al mondo, molto apprezzati dai collezionisti. Possono essere presenti inserti in seta e la sigla 6 la comporta tre passaggi di fili di trama, per ciascun filo di ordito. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.